Professor Massimiliano Fazzini, docente, professore di climatologia all'Università di Ferrara. Intanto evidenziamo subito che lei non si trova a Ferrara ma si trova a Brescia dove vive e ricordiamo che chiaramente Brescia è una delle province che più sta registrando veramente numeri importanti per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Purtroppo sì, sono in una zona diciamo epicentrale rispetto alla virulenza che oramai da un mese affligge questa zona. Purtroppo qui il segnale non è nemmeno di più positivi, è vero che c'è una tendenza della curva a non essere più esponenziale ma comunque i contagi crescono in maniera continua nell'ordine di 3 o 400 al giorno per l'intera provincia, circa 80-90 in città e la luce in fondo al tunnel sembra proprio non volersi vedere. Oltretutto c'è anche il discorso degli asintomatici che secondo le AST della zona sono stimati in un numero pari a 5-6 volte in più rispetto a quelli che sono i contagiati ufficiali. Una situazione per il momento molto diversa da quella che si sta vivendo a Ferrara? Per fortuna sì, non riusciamo a capire obiettivamente ma ripeto per fortuna di Ferrara, del Polesia in generale il perché appunto ci sia stato questo stop quasi procedendo verso oriente nello sviluppo del coronavirus. È vero che le province più occidentali del Veneto come Verona ad esempio risentono in maniera significativa di questa espansione verso est ma in maniera sicuramente minore rispetto a quello che sta accadendo nell'est della Lombardia. Ecco rispetto un po' ai discorsi che si sentono anche in questi giorni da parte di scienziati spesso viene un po' associata la questione del clima con l'emergenza del Covid-19. Lei che ne pensa? Sì noi come più volte evidenziato stiamo conducendo questo discorso che comunque è ancora in fase molto iniziale e sembrerebbe appunto anche allargando il range statistico cioè con il numero di giorni in più che abbiamo come possibilità di confronto che il rapporto in particolar modo tra temperature, umidità relative e parametri che credevamo fossero più incisivi nell'evoluzione del virus e il virus stesso non sono assolutamente correlati. Per lo meno con queste temperature è vero come hanno affermato esimi colleghi virologi anche dell'Università di Ferrara che in aree subtropicali dove le temperature però sono costantemente elevate e in questo periodo l'umidità relativa è bassa il virus attecchisce meno perché come per tutti i coronavirus c'è questa caratterizzazione termicometrica. Noi ancora non abbiamo toccato temperature significativamente elevate per tentare di trovare questa correlazione né evidenzio che i giorni di freddo tra virgolette che abbiamo avuto tra martedì e mercoledì possono essere confrontati con la tendenza dei contagi perché noi nei nostri studi evidenziamo appunto teniamo conto di questo periodo di incubazione che è generalmente di sei giorni più o meno due per cui per vedere se eventualmente ci fosse qualche correlazione tra i giorni più freddi dell'inizio settimana e i contagi dobbiamo aspettare almeno domani o dopo domani. Ecco invece per quanto riguarda la qualità dell'aria? Ma allora qui c'è da fare un doppio discorso. Se noi ipoteticamente avessimo un sistema informativo geografico a disposizione col quale sovrapporre i due livelli di evoluzione nella virulenza del coronavirus e climatologia media o meglio statistica media della qualità dell'aria evidentemente avremo un'enorme correlazione tra le due variabili soprattutto per quanto riguarda le PM10, le PM25 e l'ozono. In realtà però in questi giorni è evidente che anche grazie alla riduzione delle attività industriali e del traffico molti dei parametri che andiamo a studiare appunto in particolar modo come biossidi il particolato sospeso stanno subendo un graduale calo, non netto ma graduale. Nonostante tutto a questo graduale calo di questi parametri che potrebbero anche evicolare potenzialmente il virus non corrisponde appunto un calo percentuale o assoluto della contagiosità. Per cui anche in questo caso al momento sembrerebbe che non c'è correlazione assoluta in questo periodo dell'anno. Nel momento non c'è correlazione né con il maltempo né con la qualità dell'aria che cosa potrebbe avere attinenza? Il problema di base è che obiettivamente possiamo sovrapporre un ulteriore altro layer che questo è decisamente più significativo, la densità di popolazione. Noi sappiamo che probabilmente è un problema demografico, anagrafico nel senso che noi da Milano a Verona abbiamo una città unica con una popolazione di oltre 6 milioni di abitanti e grazie all'elevata qualità della vita di questa zona chiaramente la popolazione è molto anziana e se sovrapponiamo questi due layer soprattutto al coefficiente di letalità è chiaro che spieghiamo molte cose. Chiaro che noi però settorialmente continueremo a fare questi studi insieme a virologi dell'Università di Milano e di Brescia per vedere se effettivamente con l'avvento di temperature massime più elevate intorno ai 25 gradi ci fosse questo calo appunto della virulenza, sperando di non dover arrivare alla seconda terza legate di maggio che climatologicamente è il periodo in cui si registrano questi valori costantemente per vedere appunto se c'è questa correlazione, perché se dovessimo arrivare alla seconda terza legate di maggio significa che l'epidemia sarebbe ancora in corso e questo sarebbe un bruttissimo segnale. Invece per quanto riguarda la questione dei cambiamenti climatici vorrei ricordare che lei stesso insomma l'Università di Ferrara aveva evidenziato lo scioglimento dei ghiacciai anche partendo dalle Alpi e altre situazioni, che cosa possiamo fermare? Ma evidentemente molti mi fanno questa domanda, ma adesso questo stop, questo global stop diciamo se non totale ma parziale potrà aiutare un pochino il pianeta a respirare un attimo, no? Io credo che siano tempi veramente brevi per eventualmente tentare di scorgere una pur minima controtendenza delle temperature, tenendo conto che appunto a livello globale c'è l'inerzia, il potere termoregolatore dell'oceano che ha accumulato calore durante gli ultimi 5, 6, 10 anni di temperature realmente molto elevate e che lo ridà in maniera molto più graduale, per cui penso che questa evidenza con ogni probabilità non la troveremo. Sicuramente già dalle immagini ad esempio Sentinel, speciali appunto satelliti del progetto Copernicus, che ci permettono di evidenziare la qualità dell'aria da satellite, già evidenziamo dei benefici come peraltro si era visto in maniera eclatante nel caso di Wuhan. Lei si trova a Brescia, però lo ricordiamo insomma, l'Università è qua a Ferrara le chiediamo rispetto anche alle sessioni di esami, lauree e quant'altro come si sta organizzando, come si è organizzato lei? Ma com'è giusto che sia, anche su indicazioni del Ministero e del magnifico Rettore noi continuiamo a dare totale disponibilità ai nostri studenti facciamo esami via Webex, quindi via telematica essendo comunque molto rigorosi, ma assicuriamo totalmente la nostra disponibilità sia per quanto riguarda gli esami che per quanto riguarda lo svolgimento delle tesi perché voglio dire al giorno d'oggi, già prima gran parte dei contatti con gli studenti specialmente quando si è lontani e si hanno da remoto grazie appunto agli strumenti informatici che sono nettamente migliorati in qualità e l'Università di Ferrara ci garantisce in tal senso una potenza molto elevata per far sì che anche a un sovraccarico di contatti il segnale sia sempre molto buono.